Musica Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione del nostro notiziario che apriamo con le ultime novità in merito alla cosiddetta fase 2 ieri sera abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa del Premier Conte che ha annunciato la ripartenza dal 4 maggio ci saranno nuove disposizioni che andranno a ridurre le limitazioni in essere in queste prime settimane ha presentato dunque le linee guida per la fase 2 il Premier Conte ricordando le principali novità che scatteranno dal 4 maggio quindi dalla prossima settimana e prevedono una serie di riaperture scaglionate delle attività nuove disposizioni anche per quanto riguarda gli spostamenti e le cerimonie, le cerimonie religiose per quanto riguarda gli spostamenti dal 4 maggio saranno concesse le visite ai familiari entro i confini della propria regione rispettando sempre le distanze e con l'uso delle mascherine riapriranno i parchi, le ville e i giardini pubblici chiusi in queste settimane e poi ancora come avevamo detto si potranno fare anche delle cerimonie religiose i funerali, solo i funerali alla presenza di non più di 15 persone questo ha suscitato molte perplessità, molte polemiche anche da parte della CEI vietati gli spostamenti da una regione all'altra se non giustificati appunto da motivi sanitari e poi per quanto riguarda lo sport dal 4 maggio inizieranno gli allenamenti individuali dal 18 anche quelli di squadra, via libera lo sport anche lontano da casa rispettando appunto le distanze di sicurezza, questo il passaggio riguardante gli allenamenti di gruppo quindi anche il calcio. Per quanto riguarda le attività produttive tra le principali novità la riapertura a partire dal 4 maggio del settore manifatturiero, del settore delle costruzioni e la vendita all'ingrosso nel rispetto ovviamente dei protocolli di sicurezza che sono stati siglati in questi giorni con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i negozi e i ristoranti le riaperture slittano, slittano al 18 maggio potranno riaprire anche i musei e i negozi di vendita al dettaglio invece per quanto riguarda i servizi alla persona, i bar e i ristoranti bisognerà aspettare il primo giugno, una disposizione questa che ha scatenato molte polemiche poi ne parleremo e ovviamente se la curva epidemica dovesse tornare a salire le regioni dovranno monitorare costantemente ovviamente la situazione e in caso di un'inversione di tendenza il governo è pronto a intervenire per compiere un passo indietro e quindi ripristinare alcune restrizioni questa scheda ci ha riassunto un po' le principali novità di questo ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che come abbiamo detto prevede delle modifiche piccole in realtà per quanto riguarda gli spostamenti andiamo a sentire proprio le parole del Premier Conte che si concentra in questo primo passaggio su queste novità ma vediamo il provvedimento al nuovo DPCM le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio cosa succederà dal 4 maggio per le due settimane successive quindi fino al 18 maggio avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento gli spostamenti quindi rimarranno per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della Regione le motivazioni comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità motivi di salute all'interno della Regione sono questi gli spostamenti soltanto aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate molti nuclei familiari genitori con figli figli e nipoti con nonni vogliamo quindi consentire loro delle visite ma attenzione saranno visite mirate fatte nel rispetto delle distanze con l'adozione delle mascherine e quindi con divieto di assembramento non stiamo dicendo che sono d'ora in poi consentiti al 4 maggio parti privati familiari ritrovi di famiglia ancora all'interno delle Regioni sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso quindi è fatto di vieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in una Regione diversa dicevo rispetto a quelle in cui attualmente si trovano tra Regioni è consentito solo un trasferimento per esigenze lavorative per assoluta urgenza o motivi di salute consentiamo poi il rientro presso il proprio domicilio abitazioni o residenza ancora introduciamo una regola più stringente per coloro che presentano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37 gradi e mezzo a questo punto non è più raccomandato devono rimanere presso il proprio domicilio limitare al massimo i contatti sociali avvertire il proprio medico curante ancora i divieti di assemblamenti rimarranno luoghi pubblici ma anche privati non consentiamo parti privati a giovani, a persone adulte il Sindaco può anche disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di questi vincoli consentiamo l'accesso a parchi, a ville a giardini pubblici ma condizionato a rigoroso rispetto delle distanze e al fatto che siano adottate misure per contingentare gli ingressi anche qui i sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree laddove non ci sia possibilità di assicurare questi controlli rispetto di queste prescrizioni Il Premier è ritornato più volte sul tema della distanza sociale della distanza di sicurezza molto importante per bloccare la diffusione del virus ed evitare il contagio andiamo a sentire anche il passaggio su questo punto Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi se vuoi bene all'Italia devi evitare il rischio che il contagio si diffonda come lo puoi fare? Non bisogna mai avvicinarsi bisogna rispettare le distanze di sicurezza almeno un metro questo è fondamentale e guardate anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti perché bisogna rispettare questa precauzione teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su quattro la causa di questo contagio è nelle relazioni familiari vogliamo tutti che il paese riparta ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci è la distanza sociale se non rispettiamo quindi la distanza se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà e potrà andare fuori controllo aumenteranno i nostri morti i nostri defunti e avremo danni veramente a quel punto irreversibili per la nostra economia queste dunque le parole del Premier che ha riassunto i punti principali dell'ultimo decreto ieri anche il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha emesso una nuova ordinanza che prevede alcune novità diverse rispetto a quelle previste dal decreto con un'anticipazione dei tempi per quanto riguarda ad esempio l'attività dei ristoranti e degli esercizi commerciali take away e poi ci sono anche altre novità per quanto riguarda gli spostamenti andiamo a sentire i contenuti di questa ordinanza nel prossimo servizio via libera al servizio take away all'attività motoria nel territorio comunale di residenza e ai lavori sulle imbarcazioni da diporto queste le principali novità previste dalla nuova ordinanza sottoscritta dal Governatore Massimiliano Fedriga la numero 11 che rimarrà in vigore da domani fino al 3 maggio a integrazione di quella attualmente in vigore di fatto sono allentate alcune delle restrizioni precedentemente in essere così agli esercizi commerciali è consentito di effettuare il servizio take away ma con ordinazione da remoto e con l'obbligo di garantire la limitazione degli ingressi per evitare assembramenti sempre con l'utilizzo di mascherine o di coperture per naso e bocca con la disponibilità con la disponibilità per i clienti di donne e soluzioni igienizzanti per le mani e la permanenza degli avventori all'interno dei locali solo per il tempo strettamente necessario a consegne e pagamento della merce rimane invece sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande l'ordinanza 11 permette di effettuare passeggiate corse a piedi in bicicletta nel territorio del proprio comune mantenendo l'obbligo di una copertura per naso e bocca e della distanza interpersonale di almeno un metro a eccezione delle persone conviventi o che richiedono assistenza direttamente o avvalendosi dell'opera di artigiani sono permessi gli interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio e attività di sistemazione delle darsene l'ordinanza prevede l'uso di guanti monouso negli esercizi di genere alimentari e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per i clienti all'ingresso degli stessi e nelle aree in cui è consentita la manipolazione di ortofrutta, pane o altri prodotti l'obbligo di disporre di soluzioni idroalcoliche per le mani è steso agli esercizi commerciali la cui apertura è consentita dalle disposizioni nazionali e regionali e a proposito delle riaperture delle attività commerciali di bar e ristoranti slittata al primo giugno ma anche la ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio in molti volevano che fosse anticipato anche questo termine attorno a queste disposizioni si è acceso un dibattito molto intenso ieri sera proprio il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha partecipato a una trasmissione televisiva nazionale condotta da Barbara D'Urso andiamo a sentire quello che ha detto sentendo in questi minuti ho sentito le nostre categorie economiche il primo giugno tu hai ricordato prima le varie date il 18 maggio il primo giugno il 18 maggio il primo giugno non ci saranno più delle attività economiche cioè o ci mettiamo nei lotti guarda io sono stato il primo presidente che ho chiuso la mia regione senza avere ancora un contagio perché io penso che la strategia fosse stata quella di chiudere tutto subito ma riaprire qui invece c'è stato un percorso inverso si è chiuso a rilento io sono stato accusato dal governo perché avevo chiuso scuole e università sia ben chiaro ma adesso bisogna ripartire in sicurezza cioè dobbiamo scusi tu hai fatto vedere quel parrucchiere ho visto prima durante la trasmissione come si è organizzato ma pensiamo che quello lì possa essere pericoloso per il contagio ci sono persone virtuose imprenditori virtuosi che si sono organizzati o gli ridiamo un respiro oppure guardate che noi ammazziamo il paese se qualcuno non si rende conto ho sentito confesercenti confindustria mi hanno scritto siamo impazziti noi non riprendiamo più lasciamo a casa le persone io non so se è chiaro il dramma economico che qualcuno vive probabilmente quei comitati tecnici scientifici ci vanno benissimo sono bravissimi ma non si rendono conto quello che accade nel paese reale e ripeto sono io nella mia regione oggi c'è l'obbligo della mascherina ma io dico dobbiamo riuscire a coniugare l'esigenza sanitaria con l'esigenza lavorativa perché altrimenti la politica cosa serve diamo al comitato tecnico scientifico il compito di governare e togliamo il governo del paese il governo delle regioni tutto adesso guardate che non ci riprendiamo più io non so se è chiaro questo a tutti io non so se a Roma è chiaro questo non abbiamo più un futuro se non riprendiamo in mano la situazione seconda cosa manca la certezza cioè tu prima hai citato le spiagge non si sa quanto non si sa come non si sa perché allora possiamo dare una prospettiva alle persone che devono che stanno investendo ci stanno rimettendo soldi ieri mi ha chiamato e scusa concludo un bravissimo un gelataio guarda di Trieste che si è messo a fare consegna a domicilio mi ha detto guarda io ci sto rimettendo ma non ho messo una persona in casa integrazione per dare da mangiare perché queste persone hanno le famiglie e mi hanno aiutato per avere il benessere qua adesso adesso gli aiuto io ma possiamo fidarci di queste persone possiamo credere in queste persone possiamo credere nei nostri cittadini che rispettino le distanze di sicurezza mettano la mascherina si lavino le mani adesso bisogna avere fiducia nei cittadini e nelle imprese non si può pensare di avere questa cosa di fare le conferenze alle 20 eventi in pieni TG per fare mezz'ora di conferenza stampa e creare il panico nel paese nella classe imprenditoriale di questo paese perché altrimenti l'Italia non ci sarà più e questo mi preoccupa l'Italia da nord a sud queste dunque le parole di Massimiliano Fedriga e da Confcommercio Friuli Venezia Giulia oggi arriva un appello a fare il possibile per ripartire quanto prima siamo in collegamento via Skype con il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Giovanni D'Apozzo buongiorno 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 a voi se buongiorno si può dire oggi non è proprio un buongiorno vi aspettavate delle tempistiche diverse per la ripartenza abbiamo sentito anche dalle parole di Fedriga la definizione di un quadro abbastanza difficile tragico verrebbe da dire le chiedo subito se voi avete fatto vi siete fatti un'idea avete fatto delle proiezioni avete cercato di capire esattamente cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane cosa potrebbe accadere il 18 maggio o il primo aprile quando dovrebbero riaprire attività di commercio al dettaglio bar e ristoranti qual è la situazione che vi attendete questo provvedimento mi sembra scritto da Folli non ha nessuna ratio tenga presente che il contesto di sicurezza ed economia devono viaggiare sullo stesso binario ma i primi a richiedere sicurezza perché non sono dei Folli sono gli imprenditori che ci tengono ovviamente alla salute loro e dei loro collaboratori detto questo che era una premessa scontata ma bisogna ribadirlo perché se no abbiamo sempre una parte di esperti che cavalca questo fatto dal 12 marzo tutta la platea del commercio del mondo della ristorazione quindi tutto il mondo che è afferente al turismo tutto il mondo afferente all'artigianato del servizio una gran parte del sistema manifatturiero era chiuso e ci abbiamo anche detto è giusto perché affrontiamolo con saggezza determinazione e volontà e non ci siamo tirati indietro arrivare a fine aprile e pensare che la grande parte perché non è vero che la gran parte apre adesso col 4 maggio ma dovrà aprire col 18 maggio e la parte legata al mondo dell'ospitalità quegli alberghi litoranti pizzeria bar potrà essere operativa non prima di giugno vuol dire essere dei folli vuol dire non avere la consapevolezza che il paese rischia di entrare in una crisi da cui difficilmente poi ce ne uscirà anche perché tutto il settore della distribuzione è collegato direttamente in una filiera col settore della manifattura che poi la difficoltà si trasferisce subito sul manifatturiero un paese come il nostro dove l'80% del PIL è prodotto da consumi di beni e servizi interni capite benissimo che tutto il sistema del terziario che siano beni che siano servizi che sia riguardante l'ospitalità e quant'altro è fondamentale che venga riattivato nel più breve tempo possibile con tutti i protocolli di sicurezza dove noi li stiamo anche definendo con le forze sindacali ma nei tempi brevi e nei tempi certi qui abbiamo la domenica sera delle conferenze stampa in cui si annunzano un contorno che è stato deciso il giorno prima con una programmazione vicino allo zero è una cosa vergognosa stanno mettendo i difficoltanti hanno già messo in difficoltà e stanno dando il cocco di grazie ha ragione ha fatto molto bene il Presidente Pedriga a realizzare questo tantissime aziende ma dentro le aziende ci sono i lavoratori vi do un dato solamente nella città di Udine senza quindi la Tredemane senza il centro commerciale di Martignaco e quant'altro ci sono 3.796 imprese di commercio pubblici esercizi bar e ristoranti con quasi 8.000 occupati 8.000 occupati sono gli occupati che ha la Ficca Seri che è una delle più grandi multinazionali al mondo allora o si tiene presente che questo sistema piccolo ma distributito e variegato in tantissime aziende con 1, 2, 3, 5 dipendenti va tutelato o altrimenti poi il signor Conte provvederà lui a pagare la disoccupazione di centinaia di migliaia di lavoratori tenendo presente le imprese che hanno chiuso è un qualcosa di folle e di senza sento poi un fatto vogliamo dar valore al lavoro fatto o alla fortuna non lo so alla capacità sanitaria diciamo che ci sono certe regioni come la nostra che hanno degli indici in cui l'aggressione al virus è stata molto bassa beh viva Dio visto che viviamo da reclusi all'interno di questi confini della regione facciamo sì che questi dati emergano e vengano anche valorizzati in una differenziazione noi io vivo col mezzo siamo 30-40 km dall'Austria se noi potessimo oggi andare in Austria tutti quanti vedremo che ci sono i bari i negozi aperti e quant'altro forse il virus austriaco diverso dal nostro no hanno gestito la crisi anche sotto un profilo sanitario e poi sotto un profilo nelle fasi chiamiamole due molto meglio non il presidente conta che viene a dire che noi siamo un esempio sanitario che deve essere visto ed esportato in tutto il mondo ma ci facciamo ridere all'inizio della crisi avevamo i pseudo esperti che dicevano uno contrario dell'altro sono stati fatti degli approcci ad un tema che io capisco è un tema mai accaduto è importantissimo guardatelo però veramente guardando di giorno in giorno quindi non battiamoci di questo io ho una figlia che vive in Canada mi ha raccontato proprio ieri come in Canada hanno affrontato questo percorso dove hanno dato degli aspettamenti con i numeri infatti hanno dimostrato tutta una logica sia sotto il profilo sanitario scientifico che economico che noi dovremo andare ad imparare Presidente una considerazione in chiusura come pensate di muovervi come pensate di agire per cercare di cambiare le cose guardi io ho lasciato da stamattina che sono tutti indignati tutti vorrebbero protestare non sai neanche con che forma puoi protestare in questo momento perché dire chiudiamo i locali sono chiusi da due mesi non segniamo le chiavi ai sindaci beh poveri sindaci che cavolo sembrano loro scendiamo in piazza non puoi scendere in piazza quindi siamo in una situazione anche dove il concetto di democrazia personale non parlo economica è fortemente limitato di certo qualcosa dobbiamo fare io penso che la cosa più intelligente sia dar forza alle proprie regioni a quelle come il Friuli come il Veneto come l'Emilia Romagna quindi ne ho preso alcune di centrodestra e altre di centrosinistra che hanno le idee chiare che sono governate da persone che sanno cosa vuol dire avere un'azienda e alla fine del mese cercare l'assegno per un dipendente e il mese dopo fare le nazioni 24 cosa molto importante è che probabilmente a Roma pochi conoscono e cercare di far pressione attraverso le regioni più virtuose affinché il governo risadisca grazie grazie al presidente di Confcommercio Giulia Giovanni da Pozzo buon lavoro grazie a voi e noi andiamo avanti con un'inchiestina raccolta dalla nostra Monica Nardini che questa mattina è scesa in piazza a Udine per sentire un po' cosa pensano gli udinesi di queste ultime decisioni nazionali e regionali sentiamo le misure annunciate dal premier Conte ieri cosa ne pensi? per me è sempre troppo presto ad ogni modo può andar bene le persone sono consapevoli di quello che fanno altrimenti non serve a niente un po' fiduciata? no 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 l'importante è che noi ci comportiamo bene penso che siano abbastanza giuste vista la situazione direi tragica perché non è finito come tutti pensiamo di poter uscire e fare per cui penso che un po' di prudenza sia necessaria e doverosa rispetto alla richiesta del sindaco Fontanini di poter riaprire prima Udine il più possibile io direi che vista la situazione mi ripeto più leggera diciamo potremmo tentare perlomeno e sperare in una collaborazione di non sentirci subito tanto come vive anche le misure prese attraverso l'ultima ordinanza dal governatore Fedriga per esempio la possibilità di fare attività motoria all'interno proprio comune ritengo una cosa giusta perché tanta gente sta soffrendo per non potersi perché c'è gente che vive al sesto piano al settimo in appartamenti di 50 metri quadri abituati a fare direi di sì sempre con la prudenza come valuta le misure annunciate dal premio troppi messaggi e sempre all'ultimo momento per cui la gente è un po' come si dice preoccupata una settimana non basta le dice di Previto io credo di no io credo di no e come non capisco io che ho 79 anni prossimi 80 dovrei stare a casa secondo e questo non mi sembra una cosa giusta quindi sono necessarie queste misure e quindi dobbiamo solo temperare quindi insomma è d'accordo con quanto comunicato con le fasi scelte ma forse avrei un po' più di coraggio nell'avviare la ripresa perché ha ragione o qua si muore di covid o si muore per l'economia è favorevole a questa fase 2 con le tempistiche annunciate oppure no sono confuso non so cosa dire ma si sta adattando a quanto annunciate seguo le indicazioni perché bisogna se no è anarchia vediamo adesso gli ultimi dati sui contagi in Friuli Venezia Giulia cominciando da un aggiornamento che ci arriva da Grado il sindaco di Grado Dario Raugna sulla propria pagina Facebook ha annunciato che sono stati diffusi i risultati dei tamponi effettuati nella casa di riposo Casa Serena ed è emerso un caso di positività tra gli ospiti in queste giornate angoscianti scrive Raugna dalle parole degli esperti abbiamo capito almeno due cose l'importanza di fare le analisi per rintracciare i casi di positività asintomatici come quello in oggetto l'importanza di agire tempestivamente per isolare questi casi prevenendo le possibilità di contagio faccio gli auguri di pronta guarigione alla persona coinvolta ha scritto il sindaco in Casa Serena stiamo attivando i protocolli per il contenimento della pandemia verranno rifatti tutti i tamponi ai 110 ospiti della struttura e intanto ieri in Friuli Venezia Giulia il numero dei nuovi contagi come diffuso dalla protezione civile nel tardo pomeriggio di ieri è stato di 14 unità ecco la grafica che ci riassume tutti gli ultimi dati 14 nuovi contagi 26 guariti un decesso 129 ricoverati 13 in terapia intensiva 1106 le persone in isolamento domiciliare andiamo a dare un'occhiata anche ai dati nazionali perché ieri nel nostro paese si è registrato di nuovo un aumento dei contagi anche se il numero delle vittime è sceso sensibilmente 106.103 in questo momento le persone positive al coronavirus nel nostro paese vediamo che la regione che registra il maggior numero di contagi è ancora la Lombardia con oltre 72 mila persone contagiate il fluo di Venezia Giulia è tra le regioni con il numero di contagi più basso 2917 i decessi hanno superato le 26 mila unità 26 mila 644 i guariti 64 mila 928 questi gli ultimi dati su questa epidemia mentre dall'OMS arriva un monito attenzione non ne siamo certi che il coronavirus una volta diciamo così contratto garantisca l'immunità è su questo che stanno lavorando gli esperti allora andiamo a vedere il prossimo servizio curato dall'ANSA che ci fa il punto proprio sull'immunità che viene data dalle diverse malattie sentiamo dal punto di vista dell'immunità acquisita dopo un'infezione uno degli aspetti ancora da stabilire per quanto riguarda il covid-19 i virus si comportano in maniera molto diversa tra loro con alcuni che danno un'immunità a vita e altri invece che la conferiscono solo per pochi mesi ad esempio morbillo rosolie parotite una volta acquisite conferiscono un'immunità permanente con un rischio trascurabile di reinfezione per quanto riguarda la varicella invece l'infezione produce immunità permanente in quasi tutte le persone immunocompetenti cioè che non hanno problemi al sistema immunitario tuttavia il virus non viene eliminato dall'organismo ma rimane latente in genere per tutta la vita nei gangli delle radici nervose spinali nel 10-20% dei casi si risveglia a distanza di anni o di decenni solitamente dopo i 50 anni dando luogo all'herpes zoster la speranza degli esperti è che SARS-CoV-2 si comporti come i suoi parenti SARS e MERS il primo infatti spiega uno studio su Emerging Infection Disease crea anticorpi che durano fino a tre anni proteggendo da un'eventuale reinfezione nel caso del MERS invece la memoria immunitaria dura meno ma comunque intorno a un anno per il virus responsabile del COVID-19 però come noto non ci sono ancora indicazioni e siamo in chiusura di questa edizione del nostro notiziario allora vi lascio le previsioni del tempo a cura dell'Osmer Arpa noi ci rivediamo alle 12 a più tardi per la giornata di oggi ci attendiamo variabilità per quanto riguarda pianura e costa cielo in prevalenza nuvoloso coperto in montagna dove dal pomeriggio avremo delle piogge sparse da deboli a moderate anche se localmente sarà possibile qualche rovescio temporalesco temperature massime intorno ai 21-22 gradi in pianura intorno ai 18-19 gradi per quanto riguarda la costa per domani cielo variabile inizialmente su pianura e costa più nuvoloso coperto in montagna dove dal pomeriggio avremo piogge da moderate a localmente più abbondanti anche temporalesche piogge sparse che saranno possibili verso sera anche in pianura e quando sarà possibile anche qualche locale temporale dopodiché mercoledì e giovedì altri fronti arriveranno dall'Atlantico e aumenterà quindi la probabilità di pioggia quindi pian pianino si va verso una situazione che dovrebbe portare sufficiente pioggia per quanto riguarda soprattutto la pianura dove ovviamente l'agricoltura ha bisogno di acqua buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.